Montevarchi Sportiva si prepara alla grande mobilitazione per assicurare all'Aquila nel 99esimo derby di sempre con la San Giovannese un sostegno massiccio e adeguato al peso specifico rilevante della sfida. I sostenitori rosso-blu diretti domenica nella vicina San Giovanni dovranno acquistare in anticipo i biglietti per poter entrare al Fedini e la prevendita sulla sponda Montevarchina è attiva nella sede del sodalizio Aquilotto di Via Gramsci 19 dove i tagliandi si potranno acquistare fino a domani dalle 15.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, termine ultimo per procurarsi un posto allo stadio. Al momento dell'acquisto gli sportivi dovranno esibire un documento di identità valido e il biglietto sarà consegnato senza prendere il nominativo del tifoso. Come anticipato da tempo i supporter della curva Farolfi hanno deciso di servirsi per la trasferta del treno e si raduneranno in piazza della stazione alle 13.30 di domenica. Attenzione però perché prima di accedere ai binari dovranno munirsi obbligatoriamente di un tagliando ferroviario valido, altrimenti non potranno salire in carrozza. Ora gli aspetti tecnici con una certezza le due vittorie consecutive non fanno gonfiare oltremisura il petto al Montevarchi, consapevole delle insidie che si nascondono dietro una partita fuori dagli schemi per definizione. Calma e fiducia dunque ma anche giudizio e umiltà. Dal giudice sportivo non sono arrivate brutte notizie e alla partita speciale i sussi e compagni potranno presentarsi a ranghi quasi completi. Difficile però che possa scendere in campo dall'inizio il capitano dell'Aquila Leonardo Mannella alle prese con un risentimento al ginocchio sinistro. Conferma in vista allora per gli uomini andati a segno col tutto cuoio.